Ciao a tutti ragazzi bentornati a questo nuovo video da parte dei vostri video di scrittori maledetti, io sono Lollo E so già! E siamo qui! Con la storia di Mecha Naruto! Sperando che non sia un torneo Perché se no non ve lo starete vedendo Però perché c'è scritto nuova partita? Perché è una nuova partita, quindi non è un torneo Già è una buona cosa Oppure vai sull'isola di Tornado Oh però era nella modalità torneo mondiale, questa cosa mi preoccupa Appunto Ragazzi faremo la stessa minchiata con Mecha Ma se è un torneo non ve lo facciamo vedere Ma penso che sia un mini torneo comunque Ma solo uno No ma penso che sia comunque un torneo alla stessa minchiata No Ho completato l'iscrizione È un torneo Abbiamo capito Il torneo è soddiviso in preliminare Andate a cagare Ah dai è più piccolo Facciamo solo il D Chi se ne fotte! I preliminare saranno combattuti da squadre di tre È soltanto il D Oh penso di sì Posso provare io il D Sì Penso che sia il D Avete vinto entrambi la battaglia principale per combattere nella finale per decidere chi è il più forte Ma quando? Chi? Quando perché? Quando sta? La finale? Adesso sì che diventa interessante Per prima cosa occorre iscriversi alla squadra ai preliminari Arrivederci Ora che sono iscritto andrò ad allenarmi a cercare qualche compagno Lascerò il resto a te Akiba Dove cazzo è? Dove cazzo è? Vai in fretta proprio Non voglio rischiare di parte del film Ah mi ricordo che durante il trailer andavo in giro con Inata E poi c'era Micheanuruto che praticamente si innamorava Ah va Quindi penso che dobbiamo farci una mini storiella d'amore Oh che tenero A me piacciono le storielle d'amore La storia di Micheanuruto è un nuovo racconto Che vede i protagonisti di Naruto e Micheanuruto Minchia Minchia Affronta battaglie e avversari particolari in questa versione speciale del torneo mondiale ninja speciale Il torneo mondiale dei ninja ed emergi vincitore Quindi è un torneo però ci sono Nella storia di Micheanuruto non puoi trasferire gli attrezzi che possiede nel torneo mondiale dei ninja Ma solo il denaro e vai Se non hai Non ne hai sufficiente Affronta un'altra modalità per racimolarne un po' Ok Inata Dammela Ciao Naruto Ciao Naruto Ehi ciao che cosa ci fai da questa parte? Credo di aver visto anche Kiba Che voce di merda è? Perché stanno scendendo i peli pubblici Beh l'improvviso è saltata fuori una missione Eeeh Farla un po' più Una missione? Eh si Oh no niente di pericolo Si tratta solo di consigliare una cosa Secondo me è la posa del missionario Oh Allora non dovrebbe esserci problemi? Si però devo fare in fretta Altrimenti rischi di non fare in tempo per il torneo Ora devo andare Va bene ma Dove devi fare la consegna? Mmm Ti ho chiesto dove devi andare Devi fare in fretta giusto? Si ma Per caso vuoi venire con me Naruto? No Voglio andare dietro l'angolo Certo che si Secondo me lasciarti andare da sola sarebbe rischioso Ma se preferisci che non venga dimmelo Mmm Si vieni grazie Sono così felice Si ti faccio un pampino Ok Non mi sembra che c'era Ma allora andiamo Che poi Dov'è che dobbiamo andare? Minchia veramente Si l'isola del festival No ancora sta cazzo di isola L'isola Del festival Si quella che abbiamo visto per tre ore In quel cazzo di gioco di prima Mmm Scopoinata No Lollo No Lollo Quello è il giochino che ti fai sul computer Cazzo dici? 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 Direi che è tutto a posto Ottilavoro Sì Grazie ora dovremmo andare No ta scoppiamo adesso Che cazzo? Ma lui stava arrivando addosso Quindi hai ricevuto la consegna Io avevo sentito la tua voce Avevo letto Hai ricevuto una secca Cazzo dici? Già come vanno le cose? Dovevi controllare cosa è successo con quel terremoto? Sì giusto Non è stata la scossa violenta Ma volevamo essere certi che non ci fossero vittime Ragazzi questo video lo dividiamo a due Perché Lollo sta facendo il coglione C'erano delle fenditure sul terreno Ma niente di che Credo che il torneo potrà procedere come previsto Molto bene Molto bene Molto bene Oh a che proposito hai sentito il premio del torneo? C'è un premio! Si è stata una sorpresa Sembra che si tratterà di quello che abbiamo trovato Una macchina che fa la seguito No! Cosa se ne fa una donna? Quindi immagino che la missione sia finita Troviamo Si No Non c'era Quel messaggio non c'è E così questa è l'isola del festival Qui si disputera il torneo Teoricamente questo doveva venire prima Il sito però non è accessibile Noi abbiamo potuto raggiungerlo solo per via Del link E' nata 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 Aspetta un momento Visto che siamo qui Perché non andiamo a dare un'occhiata in giro? Magari in quella grotta no? Ah ma tecnicamente non siamo autorizzati a muoverci sull'isola Ma dai non ti preoccupare Ci metteremo un minuto Mica che schifo Che schifo Da Sono uno Spero che ci sia qualcosa di divertente in giro Minato Minato Quello vuole usare Quello vuole usare i toys Capito? Vediamo Non c'è niente in giro Possiamo andare Qua c'è una scappa Qua c'è una scappa Qua c'è un nascondino Inata Inata E' qui? Ah beh qua c'è un bel po' di cose Buoni sconti Kunai Medaglie Pozione recupero ciace Inata Vieni qua Lollo basta quello è un porno che ti sei visto ieri Cazzo c'è che cazzo è quello? Ma chi lo vuole usci? Ci devo parlare? No Lui dovevo spaccare la faccia So caduto Ti scopo il culo Minato Ragazzi Lollo in astinenza L'avrete capito L'avrete capito L'avrete capito L'avrete capito Ma che ne so l'ha detto sto minchione Sto ricchione Cosa c'è lì sopra? C'è un altro tizio Cosa vuole? Parliamo con un tizio Vediamo cosa dice Oi oi E tu non puoi ancora entrare E tu non puoi entrare qui cazzo E non posso entrare neanche qui? Posso entrare sulla parte Fai le schiore man Lì c'è un uovo Mi preoccupa quella cosa Dice qualcosa che vola Yeah 1500 euro che volano Dice qualcosa che vola Minchia vuole ritrovare lì 1500 euro volante Cazzo stiamo andando Sì ma io dovevo andare dall'altra strada No Sì Adesso qua ci sarà un tizio che non mi farà passare Sì Sì Secondo me è la fine e devo ritornare indietro Minchia Perché qui ci dovrò No Stronzato È comparsinata Così praticamente da nulla Qui non c'è niente Ad altro del naturale Eh sì Beh torniamo alla foglia anche perché ci devo preparare per il torneo Naruto a proposito ecco arriva Non c'è niente Mh 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 Anche io ho intenzione di combattere e... Se tu volessi potrei unirmi a te. Detta così proprio. E' nata porcellona. Ma certo. Insieme saremmo una grande squadra. E' nata porcellona. 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 Ma certo. Io è nata a combattere a turno nel torneo. Fantastico. Va bene. No. Va bene. Perfetto. Adesso torniamo al vellaggio e iniziamo a... Aspetta. Ho sentito un rumore. Hai sentito quello strano rumore? Sì. Sì. Chissà qualcosa è stato. E va bene. Lasciate scopare qualcuno. No. Sembra che arrivi da più avanti. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sicuramente sarà Mecha Naruto. Accettiamo scommesse. Che scommette che Mecha Naruto? Metti in pausa. No. Devo fare scommesse. Un euro. Dai ragazzi. Un euro. Toshiko. Questo che è ancora. Naruto-kun. Un euro. Vediamo. Ho vinto un euro. A tutti quelli che hanno visto. Ho vinto un euro. È Naruto. Nandarò. Questo. Hmm. Non è un'unica. 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 Non è un'unica... MECA NARUTO BACA Unica parola che sappia E sa che alla fine sia MECA NARUTO che voglia Se voglia farsi Voglia fare tutte le nuove pose Sì tromba amici dai veloce dai Dovresti vedere la faccia di Lollo com'è compiaciuto Gli sta piacendo sta storiella del cazzo Ci sta ci sta Loro che cazzo è sta roba Eh vabbè Dai Nata però MECA NARUTO penso ce l'abbia più duro Ehm È figata qualcosa Adesso ci fai tutto doppiato Eh No, sarebbe Baca Naruto Però c'è un duetti Sì, perché non posso scrivere Naruto idiota Non posso chiamarti Baca Naruto Sarebbe Naruto idiota Vedi Baca Naruto E allora ho scritto sono Naruto E vabbè, una donna cambia tutti Sono Baca Naruto Abbiamo capito che ci sarà un coprofessore Ma che cazzo dici tu Sembra un rap E poi Non mi ricordo Io lo so già Ma come cazzo fa? Ma questo di? E' un robot Sembra come i bimbi micia che continuano a scrivere no? Ciao, com, ste, perché? Vabbè, cerchiamo una memory card, dai Che cazzo è? Che cazzo è? Si muove come Nalu Ma no Quella stranamente ne ha sentito parlare E cosa? Cazzo è? Ah Cazzo è? Cazzo è? Cazzo è? Cazzo è? Ce l'ha con Naruto secondo me Eh? De, è obbligo eh È obbligo, non hai scelta Cazzo è? Cazzo è? Non ti fai Non mi piace Non mi piace Ahahahah Camaro sta? Cazzo è Naruto che cazzo è il mostro Ma dissi nemmoo? Ehm... Beh... ... Sai perché... ... ci vittori e ci sono i nostri loro? Che abbiamo detto tutto questo, ma... ... ma non sai come si arrivi, senza l'unità migliore... ... ma è superato... ... un'altra cosa, un'altra cosa... ... ho fatto, non ci mi arrivo per fare? ... È... ... un'altra cosa, almeno oggi siamo con il nostro l'altro... Eh, non te la dà. È proprio bello, mi piace il seno a Ruto. Da quando? Allora, è uguale! Vabbè, scusate, pensiamo fosse finito. E adesso? E adesso dovremo... Siamo il villaggio della foglia. Vabbè! Invece Naruto è Naruto. Ah, non parlano più. Oh, quindi questo è il villaggio dove vive la signorina Hinata. Dunque, spieghiamo se vediamo di prepararsi per il torneo. Andiamo Hinata? Sì! Puntini, puntini, puntini. Puntini, puntini, puntini. Che cos'era? Che cos'era? Che cos'era quello? Era il mio cazzo. Non lo so! Ma era una cazza! Non ero umano, vero? No! No! Oh mio Dio! C'è un robot che cammina in mezzo al villaggio! Vai a iscriverti! Salviamo! Ok, ragazzi, per questo video lo scriviamo! Non parlate basta! Eh, però teoricamente dovremmo andare in giro per il villaggio! No! Devi iscriverti al torneo! Eh, ma penso che... Devi iscriverti al torneo! Ma vedi che l'artizio c'ha... S'ha detto! Vedi, devi andare in giro, mi sa! Che paglia! Vabbè, tagliamo! Penso che sia una storiella! Ah, eccola! Ehi, fratellone Naruto! Chi cazzo sei? Chi ti conosce? Ehi, anche tu prenderai parte al torneo, vero fratellone? Voglio che tu sappia che non ho intenzione di perdere! Che vuoi ci diamo, Iruka? Iruka chi? Ah, il maestro! Parteciperò anche io al torneo! Sono molto ansioso di vedere quanto sei riusciuto! Ti porterò e diventerò il più ammirato! Questo qua è Shino! Ah, mio padre arriva Inu! Avevo letto Inu! Ti porterò e diventerò il più ammirato! Ah! Oddio, Shino! Che cavolo dici? E fai commentare cavolo! Non è nè la cazzo, è la cavolo! Certo, certo che Naruto ha molti amici! Ehi, è Naruto! Ehi, è Naruto! Sembra che abbia ottime possibilità di vincere anche questo torneo! Ma certo, lui è il grande eroe del villaggio della foia, non può perdere! Già, devo andare a scommettere il suo vincitore! Ehi, ragazzi! Ehi, ma cos'è? Cos'era quello? Anche quello è strano! Tipo, è amico di Naruto! È uguale! Non può essere, voglio dire, guarda, c'è qualcosa di strano! Lui è un robot! Sì, diventate i brividi! Ma che cosa ci fa con il villaggio? È un robot! Ma chi lo sa? È un robot! È un robot! È un robot! Eccolo! È", un robot! Sì, sì! No! Nulla! Sto! Molto! Bene! Grazie Scusate se ci penso tanto Ci hai messo troppo Siamo rimasti qui Ad aspettare che tu Facessi i tuoi comodi Guarda che hai già chiesto scusa Niente paura abbiamo ancora un sacco di tempo Se mi ringraziare Devi ringraziare la signorina Inata e la mia gentilezza. Sì, ringrazio Inata, non te dice... Come osi. Dai, su, non litighiamo. Sì, non litigheremo, va tutto bene. Siamo grandi amici. Che banderuola. Ok, allora che si fa, Naruto? Eh, sapesse. Bene, per prima cosa vediamo di preparare i nostri attrezzi ninja. Quindi dovremmo andare al negozio ninja. Andiamo. Mi voglio a sbattere il raga. Il giorno dopo, così. Dove cazzo ha dormito un meccanerut? Per strada. Quella è casa mia? Accidenti che bella dormita. E così siamo... Oh, ben umano. Farò meglio a raggiungere Inata. Dove cazzo è? Ho detto che... Ha detto che... All'ingresso, ok. Quello veloce. Vai! No, salmiamo dopo. Vai! Dove? Dove cazzo si va qua? Boh, io sto lì. Senso dell'orientamento a zero. Boom. Caduto. Speriamo di essere andati dalla parte giusta. Che cazzo sono? Qui c'è i ciraku, quindi devo andare qua. Oh, soldi! No, io sto in tettaria. Vaffanculo, va. Che cazzo sono? Questa dovrebbe essere l'ingresso. Poi è dove hanno parlato quei due. Aspetta, scatole. Eh, 300 di euro. La gente poi si lamenta che non ci sono soldi. Eh, basta rompere le scatole. Basta rompere le scatole. Andiamo. Che ragazzi? Scherzo. Adesso sto tizio se mi rompe il ca, il ca, il ca, il ca. Che cazzo! Ciao. Ci sei tanto tu qui? Dov'è Inata? La signorina Inata arriverà tra poco. Vedi di calmarti e aspetta. Oh, ciao Naruto. Cazzo è? Ha comprato la... Scusa, mi sa che ho fatto tardi. Non è... La te, di solito sei sempre molto puntuale. Ah, no. Beh, è che stavo preparando queste cose. Oddio! Ma... Ma questa... Oh! Bambole! Bambole! E poi ha fatto delle bambole per metterle d'accordo. Sono bellissime, sembrano vive, invece no. Posso anche metterci dentro delle cose. Che capolavoro di merda. Ciao di qui. Davvero? Oh, grazie. Ci possiamo mettere delle cose dentro le bambole? Cosa ci vogliono mettere? La droga, questi tizi? Allora, questa è di me, di Naruto, e questa è di me, c'è Naruto. Ma va. Scommentiamo che gliel'ha data al contrario. Esatto. Ah, 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 ah. Adesso mi sento potentissimo. Perché mi hai dato la bambola di Naruto? Io preferisco la bambola. Io preferivo la bambola di Mecha Naruto. No, ve le ho date proprio per farvi diventare amici. Minata. Ah, no. Capisco. Allora terrò questa bambola di Naruto. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Sarei felice se, sarei felice se, sarei felice se la sicurità è la bambola, Naruto. Beh, non sto molto bene quando la tengo. E poi è molto bella, non vorrei che si sporcasse. La consiglio a correre con un pulito. Sì, vabbè. Mi piace molto, grazie. Forza andiamo, altrimenti facciamo tardare la tornella. Dai, iniziamo sto minchia di tornella. Non vedo l'ora, facciamo del nostro meglio, signorina Hinata. Sì, facciamo. E il nostro meglio e porteremo... E potremmo riportare... E potremmo riportare... Ah, come stai giocando tra... Bene, andiamo! Ora si combatte, spero. Sì, minchia mi cazzo. Facciamo un mattino. Ci vado da un sottino. Fermo, lì. Eh? Fermo. No! No! Ragazzi, chiudiamo qui. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Non scherzo! Non scherzo! No, se poi chiudiamo il video... Ma che palle! Ma almeno cambiatelo, no! Non ho lo stesso filmato di sto cazzo! Nessun arrivano gli okage... Quanto è figo, meccanaruto, dai! Guarda, sono lì, sono lì! Qua! Micchia che bravo! Solo l'ora è trovato! Poi ci sono qua, ci sono altri tizi. No, ora c'è il nuovo discorso di questi stronzi. Saltalo! È uguale! Lo vedono nel video prima! Se non l'hanno visto... Ma che cazzo dici? E così hanno un ascolto per andarlo a vedere. Saltalo! Ah, ma è finito, dai. Saltalo! Cominciamo a fare i saluti. Saltalo! No! È finito! Saltalo! Non glielo faccio sentire, eh? Saltalo! Saltalo! No! È il caso veneto! Saltalo! Vuoi vedere quanto resisti! Io ho sentito... La storia è la tua! Non glielo faccio sentire, eh? Non glielo faccio sentire! avevi una scusa per farvi vedere il video precedente ma io la metto comunque deficiente ma non lo vanno a vedere non lo vanno a vedere si che lo vanno a vedere si ti illudi non devi illudere deve essere realista e già tanto servono 30 visualizzazioni sto video ok facciamo anche una scommessa su quante visualizzazioni ok la premiazione di una tempesta no la premiazione detto la premiazione ok ragazzi con questo chiudiamoci vediamo al prossimo video ciao